Presentato oggi a Palermo il Movimento Nazionale Siciliano, soggetto politico che unisce autonomisti, sicilianisti e indipendentisti. Voto di scambio politico mafioso ad accusare il candidato sindaco di Palermo Fabrizio Ferrandelli spunta un altro pentito. Legambiente presenta a Palermo Pendolaria 2016, 5 milioni e mezzo di persone su metropolitane e treni regionali ogni giorno. Buonasera, bentrovati all'edizione di Media News di martedì 24 gennaio. Presentato oggi a Palermo il Movimento Nazionale Siciliano, il soggetto politico che mette insieme autonomisti, sicilianisti e indipendentisti. Nato dalla proposta di Sicilia Nazione, del fronte nazionale siciliano e del Movimento per l'indipendenza della Sicilia. Presentati anche il simbolo, il programma e la politica di alleanze del Movimento, il sostegno alla candidatura alla presidenza della regione richiesta a Gaetano Armao. La Sicilia ha bisogno di un movimento nazionale siciliano che difenda i diritti di questa terra. Non c'è mai stato un partito, un movimento davvero siciliano. Noi quindi accettiamo questa sfida e scendiamo in campo per questa sfida costruendo alleanze per vincere. Vogliamo conseguire un risultato, siamo la prima forza politica che presenta il programma, vogliamo costruire alleanze, le vogliamo costruire per esempio, lo diciamo con chiarezza, non le possiamo costruire col centro-sinistra, non le possiamo, centro-sinistra che ha determinato lo sfascio di questa regione con Crocetta, non le possiamo costruire certo con i grillini per tante ragioni, tra le altre quelle che loro alleanze comunque non ne cercano. Speriamo e chiederemo ai partiti che fanno parte del centro-destra di avere il coraggio di allargare la loro coalizione, allargarla ai movimenti sicilianisti, farla diventare una coalizione per la Sicilia. A queste condizioni noi siamo disponibili a trovare e individuare un'alleanza e abbiamo chiesto al professore Gaetano Armao di accettare la candidatura per la presidenza della regione, anche ove la coalizione decidesse di fare le primarie. Ci mettiamo in gioco, ci sporchiamo le mani e lavoriamo per vincere. Io accetto con riserva questa offerta, questa idea, riserva che potrò sciogliere solo se si costruisce attorno a questo progetto una grande alleanza. Io penso che ci siano le condizioni perché la Sicilia può farcela. Possiamo uscire dal pantano nel quale ci hanno buttato, soltanto con idee, con energia, con determinazione. Non ci tirerà fuori nessuno se non ci tiriamo fuori da soli. Allora mettiamo insieme ciò che di meglio la Sicilia esprime. Ancora esprime tanto. Abbiamo perso tante energie che sono andate via, ma ancora tante sono qui. Mettiamole insieme e ce la faremo. Quali sono i punti salienti del programma? Il programma parte intanto dalla rivendicazione dell'autonomia finanziaria della Sicilia vera, non quella che è stata disegnata dagli ultimi accordi firmati a Crocetta, che hanno non solo svenduto almeno 5 miliardi di introiti che la Corte Costituzionale ci aveva riconosciuto, ma anche hanno formalizzato una rinuncia alla previsione dello Statuto che invece prevede che noi possiamo trattenere le risorse raccolte in Sicilia. Mentre invece con questi accordi ne potremmo raccogliere, cioè le potremmo trattenere soltanto due terzi, e quindi meno di quanto abbiamo bisogno, meno di quanto abbiamo diritto. E poi soprattutto puntare sulla fiscalità e vantaggio per attrarre investimenti, finanziare e sostenere le start-up dei giovani, puntare sul turismo però non in termini solo formali ma con nuovi aeroporti, nuova viabilità, cioè creare un'infrastruttura che al turismo possa servire, agricoltura di qualità, innovazione, pesca, tecnologia, collegamento con le università, quello che può fare della Sicilia un'isola fedice, un'isola dove veramente i nostri ragazzi possono crescere e non solo scappare. Frodi sulle forniture e fatture gonfiate, i migranti diventati un affare su cui lucrare a Pozzallo, si sono concluse con la denuncia di sei dipendenti del Comune le indagini condotte dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa nei confronti della struttura di accoglienza. Si sono concluse con la denuncia di sei responsabili le indagini condotte dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa nei confronti della struttura di accoglienza Hotspot di Pozzallo. Le attività di controllo hanno preso il via dal rinvenimento di materiale logistico destinato al centro ma in realtà non presente e poi allargata la verifica sulla gestione dei fondi che il Ministero dell'Interno tramite la Prefettura di Ragusa eroga per l'accoglienza e il mantenimento dei cittadini extracomunitari ospitati. L'indagine che ha visto impegnati per oltre un anno gli investigatori della tenenza di Pozzallo ha consentito di far emergere attraverso la puntuale ricostruzione contabile delle giacenze di magazzino dell'esame delle fatture di acquisto e dei prospetti di rendicontazione delle spese comunicate alla Prefettura la responsabilità di sei dipendenti del Comune di Pozzallo con incariche all'interno del centro come il direttore, il magazziniere, il contabile, il responsabile del servizio amministrativo e vari coordinatori per reati di truffa e frode nelle pubbliche forniture reati questi ultimi posti in essere dagli indagati in concorso con un sistema organizzato di comportamenti volti ad ottenere l'erogazione di denaro pubblico per la liquidazione delle fatture di volta in volta presentate alla Prefettura di Ragusa per i servizi resi risultata tuttavia fraudolentemente incrementata ed omettendo al contempo di fornire le quantità di beni e servizi ai migranti contrattualmente convenute complessivamente gli indagati hanno richiesto impropriamente al rimborso negli anni 2013 e 2014 un importo di oltre 650 mila euro attestando falsamente una distribuzione di materiale in realtà mai avvenuta giustificata da prospetti gonfiati la Procura della Repubblica di Ragusa ha già inoltrato al giudice per le indagini preliminari la richiesta di rinvio a giudizio per le ipotesi di reato di concorso in truffa e frode nelle pubbliche forniture, il tutto in danno del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa Formazione professionale, scandalo, corsi d'oro a Messina l'ex parlamentare PD francantonio genovese condannato a 11 anni di pena interdizione dei pubblici uffici ed una provisionale di 20 mila euro 11 anni di pena, interdizione dei pubblici uffici per la durata della pena e una provisionale di 20 mila euro per francantonio genovese, ex parlamentare PD poi passato a Forza Italia, figlio di un senatore e nipote del più volte ministro della democrazia cristiana Nino Gullotti questa la sentenza emessa dai giudici della prima sezione del Tribunale di Messina Genovese è stato per due anni sotto processo uno dei quali trascorso tra il carcere di Gazi e gli arresti nella sua casa leggeremo le motivazioni della sentenza dichiarato illegale di Genovese Nino Favazzo per fortuna, aggiunto, i processi si svolgono in tre gradi e quindi non finisce qua una sentenza del genere per qualche capo di imputazione non me l'aspettavo posso dire che le condotte contestate come peculato sono state riqualificate in truffa aggravata il processo è quello relativo ai cosiddetti corsi d'oro della formazione professionale è ruota attorno alla miriade di enti controllati da Genovese e dei suoi familiari attorno ai quali gravitavano decine e decine di milioni di euro varie le accuse nei suoi confronti da associazione per delinquere a truffa, riciclaggio, frode fiscale e peculato oltre alla condanna per Genovese è scattato anche un sequestro di beni per oltre un milione di euro da parte del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Messina il provvedimento è relativo ad un procedimento penale per evasione fiscale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti relative agli anni che vanno dal 2008 al 2014 secondo gli investigatori sarebbe stato messo in piedi un complesso sistema evasivo grazie al quale sarebbe stata occultata una base imponibile di circa 6 milioni di euro il metodo utilizzato sarebbe stato quello delle fatture false tra varie società collegate a Genovese che non avrebbe inoltre dichiarato i proventi depositati su conti bancari accesi in Svizzera un sistema illecito che avrebbe permesso alle due società di erogare utili a Genovese facendoli figurare come compensi per prestazioni mai ricevute voto di scambio politico mafioso ad accusare il candidato sindaco di Palermo Fabrizio Ferrandelli spunta un altro pentito bagherese intanto Forza Italia rompe gli indugi il partito si dice pronto a dargli il suo appoggio alle prossime comunali ancora grane per il candidato sindaco di Palermo Fabrizio Ferrandelli adesso a fare il suo nome spunta anche un altro collaboratore di giustizia dopo Giuseppe Tantillo, storico boss del Borgo Vecchio di Palermo adesso spunta Vincenzo Gennaro, ex affiliato ai clan che gravitano attorno a Bagheria il pentito di Altavilla Milicia tira in ballo il politico per una vicenda che risale al 2013 Ferrandelli, allora deputato regionale, si sarebbe infatti messo a disposizione del sindaco Antonino Parisi per sistemare una pratica amministrativa, forse una concessione di lizia la dichiarazione del collaboratore bagherese è precedente a quella di Tantillo secondo il quale Ferrandelli avrebbe pagato 4.000 euro per un centinaio di voti alle elezioni comunali del maggio 2012 e 3.000 per le successive regionali di ottobre nel corso dell'interrogatorio di ieri il candidato sindaco accompagnato dagli avvocati ha respinto l'accusa di voto di scambio politico mafioso e ha detto di non avere mai conosciuto personalmente Tantillo che per lui erano solamente i frutti vendoli del borgo vecchio non ha escluso di averlo incontrato ma mai da soli in uno dei tanti appuntamenti elettorali anzi ne ha ricordato uno in particolare organizzato dal partito democratico in un bar per consentire al candidato di confrontarsi con i commercianti della zona intanto proprio ieri mentre Ferrandelli usciva dal palazzo di giustizia Forza Italia ha rotto gli indugi il partito si è detto pronto a convergere proprio sulla sua candidatura alla guida di Palermo il leader Gianfranco Miccichè ha affermato infatti che avendo già da tempo valutato l'ipotesi di un ampliamento della coalizione dei moderati è disposto a prendere in considerazione l'appoggio alla candidatura di Fabrizio Ferrandelli ovviamente non prima di aver sentito le sue dichiarazioni sulla vicenda è sempre che non emergano fatti di rilevanza penale tali da superare il nostro fermo e convinto garantismo Parliamo dell'emergenza maltempo in Sicilia vertice a Palazzo d'Orleana in corso la mappatura dei danni da parte di tutti i dipartimenti interessati finalizzata non solo ad individuare gli interventi immediati ma anche alla dichiarazione dello stato di calamità che verrà deliberato nei prossimi giorni dalla Giunta Tempestività degli interventi mappatura delle criticità volontà di coordinamento è quanto emerso nel corso dell'incontro organizzato a Palazzo d'Orleana a Palermo al quale hanno partecipato oltre al governatore Crocetta la protezione civile, ANAS, Cassi, Dipartimenti Infrastrutture, Territorio Ambiente e Tecnico gli enti stanno seguendo attentamente l'emergenza maltempo in Sicilia assicurando la loro presenza nei territori e intervenendo per risolvere i problemi critici nelle zone colpite è in corso la mappatura dei danni da parte di tutti i dipartimenti interessati finalizzata non solo ad individuare gli interventi immediati ma anche alla dichiarazione dello stato di calamità che verrà deliberata nei prossimi giorni dalla Giunta è urgente, si legge in una nota del Comune di Palermo l'approvazione da parte dell'ARS del piano approvato in Giunta relativo all'utilizzo dei fondi POC dove sono previsti moltissimi interventi destinati proprio ai territori danneggiati da calamità naturali tale piano per legge regionale deve essere apprezzato nelle commissioni di merito e condiviso con un documento dell'ARS il presidente Crocetta ha già sentito il presidente dell'ARS Ardizzone che ha assicurato il proprio interessamento per l'accelerazione dell'Iter intanto considerato il perdurare delle avverse condizioni meteorologiche in Sicilia l'assessorato alla cittadinanza sociale di concerto con le associazioni che operano sul territorio ha deciso il prolungamento del piano operativo emergenza freddo 2017 fino al giorno 30 gennaio ed il potenziamento dei servizi già attivi di ospitalità notturne per tutti coloro che decideranno di chiedere ospitalità ed il relativo trasporto dalla strada ai posti al chiuso il piano prevede interventi straordinari su strada a supporto delle persone senza fissa dimora in collaborazione con enti di terzo settore che gestiscono i servizi di emergenza sociale per conto del comune come dormitorio, assistenza notturna e diurna su strada ricoveri di urgenza e mensa e gli enti di volontariato che si occupano dei senza dimora Legambiente presenta Palermo Pendolaria 2016 5 milioni e mezzo di persone su metropolitane e treni regionali ogni giorno crescono le differenze tra le aree del paese al sud meno 21,9% dei treni dal 2010 e meno che in Lombardia le interviste in Italia oggi noi presentiamo questo rapporto che è l'unico che fotografa in qualche modo la situazione del trasporto pendolare cioè quello di chi ogni giorno prende il treno o le metropolitane per ragioni di lavoro o di studio in Italia ogni giorno sono 5,5 milioni di persone che prendono le metropolitane o i treni regionali è un dato in leggerissimo aumento e già questo è inquietante perché appunto avremo bisogno sempre di più di persone che prendono il treno e lasciano a casa l'auto e invece cresce troppo poco ma soprattutto evidenzia differenze incredibili noi abbiamo un aumento delle persone che prendono il treno in Lombardia, in Toscana, in Emilia e continua a calare invece al sud dove purtroppo in questi anni sono stati fatti tagli ai treni regionali, sono stati fatti tagli agli intercity e le persone non trovano più proprio i treni la mattina o ne trovano talmente pochi che devono per forza rinunciare questo è il problema principale, cioè il sud e l'altro grande problema sono le città dove si investe troppo poco e quindi l'alternativa al trasporto pubblico purtroppo in Italia funziona poco cambiare le priorità in questo paese si parla sempre di infrastrutture, di grandi opere quando invece bisognerebbe capire che questo paese ha due problemi che sono le città dove vivono 25 milioni di persone dove c'è la principale domanda di mobilità ogni giorno e dove non si investe abbiamo fatto un calcolo che se a Roma si continuasse a investire come si sta investendo ad oggi sulle metropolitane per raggiungere un dato medio europeo di dotazione per abitanti ci vorrebbero 80 anni non si possono aspettare 80 anni perché a Roma si abbia una mobilità normale la scelta di presentare questo rapporto 2016 di pendolari a Palermo non è casuale è una scelta per accendere il riflettore sul sud sulla Sicilia in particolare sulla situazione grave che continua a esserci nel trasporto su ferro c'è solo qualche timido segnale positivo uno è quello del tramme di Palermo ma per il resto i pendolari continuano ad avere enormi difficoltà anzi il rapporto evidenzia che dove ci sono stati i tagli e purtroppo questi tagli pesano nel sud e in Sicilia nella riduzione dei servizi nella riduzione degli investimenti per le linee nella manutenzione dei treni nell'acquisto dei treni i pendolari chiaramente diminuiscono mentre dove si è fatto qualche investimento penso alla Lombardia in generale in alcune regioni del nord invece i pendolari aumentano noi abbiamo una frequenza di treni regionali che è un decimo di quello che c'è in Lombardia in Sicilia questo dimostra appunto che chi vuole spostarsi in treno ha grandi difficoltà sempre di più nel sud e in Sicilia nelle dieci linee peggiori d'Italia abbiamo di nuovo avuto una premialità direi quasi ironicamente in Sicilia che è il tratto che va da Messina a Ragusa là ci sono stati i tagli più forti soprattutto nel tratto Ragusa a Catania i treni sono ridotti da 31 nel 2002 a 7 nel 2016 quindi una riduzione drastica che ha impedito appunto questo utilizzo e questo è un pessimo premiato che abbiamo in Sicilia Traffico internazionale di stupefacenti 8 arresti tra Palermo, Agrigento, Trapani, Roma e la Spagna le indagini hanno permesso di scoprire un'associazione a delinquere con base a Marsala finalizzata al traffico di cocaina Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo sta eseguendo a Marsala, Isola delle Femmine e Frascati rispettivamente in provincia di Trapani, Palermo e Roma 8 arresti per traffico internazionale di stupefacenti i provvedimenti dei quali 6 di custodia cautelare in carcere e 2 gli arresti domiciliari sono stati emessi dal GIP del Tribunale di Palermo al termine di indagini svolte dai finanzieri del GICO sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia Le indagini eseguite tra il 2014 e il 2015 hanno permesso di scoprire un'associazione a delinquere con base a Marsala finalizzata al traffico internazionale di cocaina proveniente dalla Spagna che riforniva in particolare la zona del litorale agrigentino e marsalese L'organizzazione, capeggiata da Pietro Maniscalco, 58 anni ritenuto vicino alla criminalità organizzata e Davito Chirco, 57, si avvaleva principalmente di due fornitori spagnoli Gerardo Larte Alonso, di 52 anni, e Santiago Rodriguez Gonzalez, di 45 quest'ultimo ex appartenente alla Guardia Civile i due iberici curavano l'introduzione nel nostro paese della sostanza stupefacente in particolare Rodriguez curava il trasporto della cocaina a bordo di autoveicoli appositamente adattati sbarcando con il traghetto presso il porto di Palermo nella speranza di non subire controlli approfonditi era pronto a esibire un documento scaduto della Guardia Civile Alonso invece precedeva il suo complice in aereo per verificare che agli arrivi presso il porto di Palermo non vi fossero dispositivi di controllo ulteriori rispetto a quelli ordinariamente attuati dalle forze di polizia entrambi sono stati arrestati dalle fiamme gialle palermitane in occasione di un precedente sbarco di stupefacente effettuato a Palermo e si trovano agli arresti domiciliari in Italia per loro il GIP ha ora disposto la custodia in carcere dalle indagini dei finanzieri sono poi emersi elementi di irresponsabilità a carico di altri soggetti a bario titolo coinvolti nei traffici illeciti sono state complessivamente arrestate in flagranza quattro persone tre a Palermo e una ad Agrigento e sequestrati oltre 6 kg di cocaina Al via all'ospedale Buccheri Laferla di Palermo il primo studio che durerà sei mesi e coinvolgerà 30 persone affette da fibromialgia vediamo Partirà il giorno il primo febbraio di quest'anno appunto presso l'ospedale Buccheri Laferla in sinergia con lo studio dell'insediante Caterina Forte uno studio che vuole dimostrare cosa il Feldenkrais, il metodo Feldenkrais può fare a favore dei pazienti fibromialgici tutto è nato durante il terzo seminario di formazione degli insegnanti di Feldenkrais di Palermo dove è stato spiegato un po' tutto quello che il Feldenkrais può essere di aiuto e agevolazione ai pazienti fibromialgici un gruppo di pazienti, una quindicina in tutto ha partecipato a una lezione del metodo e alla fine di questa lezione praticamente ci siamo resi conto che effettivamente il 90% dei partecipanti aveva avuto degli effetti benefici e positivi come un forte rilassamento muscolare una sensazione di equilibrio abbastanza corporale abbastanza forte riduzione dei dolori sia alla testa che ai dolori proprio articolari e anche e soprattutto movimenti molto fluidi e rilassati tutto questo naturalmente sono cose ottime per quanto riguarda il paziente fibromialgico visto che la caratteristica della patologia è proprio una contrattura muscolare un dolore muscolo scheletrico che coinvolge tutto l'organismo allora si è pensato di organizzare di fare appunto questo corso diciamo questo studio più che altro del metodo sui pazienti fibromialgici per cercare di trovare un protocollo che possa dimostrare che effettivamente il metodo funzioni e migliori la qualità di vita del paziente fibromialgico e poi da qui perché questo è un primo studio che si fa in Italia poterlo diffondere sia a livello nazionale che a livello internazionale visto che questa patologia purtroppo è diffusa in tutto il mondo e soprattutto in Italia si calcola che ci sono 2 milioni di pazienti fibromialgici invito tutti i pazienti che mi stanno ascoltando a poter partecipare tranquillamente a questo studio che ha la durata di 6 mesi e comprende praticamente due lezioni settimanali verrà fatto presso l'ospedale Buccheri Laferla il reparto della fisiatria quindi proprio in palestra del reparto fisiatrico che può essere veramente un'occasione intanto per migliorare fisicamente e poi per dimostrare che effettivamente questo metodo come altre metodiche che già ci sono in atto può essere veramente di aiuto a noi fibromialgici il gruppo classe 2R della scuola secondaria di primo grado Cosmo Guastella di Misilmeri presso Portella di Mare verrà premiato a Catanzaro venerdì prossimo nell'ambito del concorso nazionale premio Giovanni Grillo vediamo Noi abbiamo realizzato un elaborato plastico pittorico in cartone riciclato e altri materiali di riciclo innanzitutto abbiamo costruito una base di cartone incollando vari strati di cartone riciclato ricoprendo tutto infine con della carta del pane questo progetto è nato il premio Giovanni Grillo è nato mentre praticamente stavo navigando in internet cercando notizie praticamente mi sono collegato con l'URS Sicilia e ho trovato questo progetto quindi in quel periodo avevamo noi i consigli di classe e quindi ho proposto il consiglio di classe per aderire a questo progetto i colleghi subito li ho trovati abbastanza disposti per questo progetto e infatti ho coinvolto i colleghi di arte e anche tutto il consiglio di classe ora io devo dire che per questo concorso dedicato a Giovanni Grillo io mi sono ispirato al grande maestro misilmerese Giusto Sucato dobbiamo dare atto al maestro di aver realizzato una infinità di lavori e tra questi lavori ci sono i lavori dedicati alla Shoah e di conseguenza nel momento in cui ho saputo che c'era questo premio ma questo concorso perché io non ci speravo proprio onestamente perché non me ne creo mai illusioni proprio per non illudire i ragazzi ma a me interessa fare, ho detto ai ragazzi facciamo, proviamo avevamo fatto l'anno scorso tutta una serie di lavori sulla Shoah adesso si presentava, si prestava l'occasione per quanto riguarda questo premio Giovanni Grillo e insieme ai ragazzi, alcuni ragazzi della seconda R abbiamo realizzato questo manufatto in cartone riciclato questo premio certamente rappresenta la grande attenzione che la scuola ormai da anni rivolge a tutte le iniziative che in qualche modo consentono all'interno del curriculum di pensare alla storia, riflettere sulla storia conservare la memoria e coniugarla con l'operatività e la didattica laboratoriale quindi l'acquisizione di competenze che è imprescindibile nella scuola di oggi ma soprattutto lo è nella scuola del primo ciclo Ieri sera al Teatro Politeama di Palermo un evento dedicato alla danza in ricordo di Simona Unidi ballerina prematuramente scomparsa, il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore della ricerca oncologica Gala della danza al Teatro Politeama di Palermo La magia della danza dedicata a Simona Unidi, ballerina scomparsa nel 2011 ad appena 36 anni che nel 2009 a coronamento della carriera artistica ha ottenuto il quarantesimo premio positano Leonide Messin per l'arte e la danza riconoscimento ricevuto anche da Rudolf Nureyev, Carla Fracci, Roberto Bolle Ieri la serata di beneficenza organizzata dall'associazione ASDC Futuro Danza Palermo in collaborazione con l'associazione Arte e Beneficenza Simona Unidi Onlus con il patrocino del Comune e della Settimana delle Culture a favore del progetto Oncologia a Mauanza in Tazzania dell'associazione Vittorio Tison alla quale è stato devoluto e ricavato è la serata Una serata particolare dedicata ad un artista, una ballerina scomparsa stasera farete qualcosa di davvero particolare? Esattamente, noi abbiamo attraverso la danza, vogliamo ricordare Simona Unidi una ballerina scomparsa nel 2011, una grande artista che ha danzato in quasi tutti i teatri d'Italia e anche all'estero quindi tramite la danza, tramite i giovani e tramite la presenza di grandissimi artisti e quindi primi ballerini dei vari teatri d'Italia vogliamo ricordare lei come una serata di gioia Parliamo invece di giovani e di amore per la danza qua a Palermo C'è tanto, c'è tanto amore Io sono una ballerina del Teatro Massimo quindi danzo e quindi anch'io amore per la danza perché lì sono una ballerina del Corpo di Ballo qui fuori dal teatro organizzo e vedo che da parte dei giovani c'è veramente tantissimo amore nei confronti della danza anche gli insegnanti c'è tantissimo, tantissimo ottimo lavoro tanta presenza e anche tanta fiducia perché magari stiamo passando un periodo abbastanza difficile e critico però vedo che anche stasera avremo la presenza di tanti giovani quindi l'intenzione è proprio quello di avvicinare avvicinare i giovani al teatro e trasmettere fiducia Tutto quello che viene rappresentato stasera al di là di dare al pubblico una gamma ampia cioè quindi dal classico, diciamo, di repertorio alla danza contemporanea sono anche brani, sono anche entità che sono tutte legate alla figura di Simona Realizzare in Africa, in Tanzania esattamente presso Muanza un'attività di oncologia questo paese è privo di attività oncologiche non ci sono oncologi medici noi abbiamo formato un giovane collega il quale opera in questa sede dal 2002 dove sta facendo un ottimo lavoro di cura e di prevenzione in un paese dove i tumori sono in aumento spaventoso e dove purtroppo molti bambini sono colpiti a causa delle malattie infettive che sono causa di tumori in se stesse Volei femminile una partita delicatissima e importante visto che purtroppo venivamo da alcune partite con una partenza purtroppo non brillante come al solito oggi abbiamo avuto il giro di andata prime imbattute siamo contentissime così è tutto grazie per l'attenzione vi lascio al meteo e allo sport come sempre vi do appuntamento alle prossime edizioni grazie 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 grazie